Temperature massime a 12 gradi, termosifoni malfunzionanti o completamente assenti. Gli alunni della scuola San Lorenzo, al quartiere CEP, rimangono al freddo ed oggi i genitori hanno protestato fuori dai cancelli. A nulla infatti sono bastate le promesse del sindaco Franco Landella, che aveva assicurato la risoluzione del problema durante il corso delle vacanze natalizie. La situazione è precipitata perché ci erano state fatte delle promesse che sembravano fattibili, proprio sono venuti qui consiglieri, persone del comune. La scuola è inagibile, infatti stamattina non è entrato nessun bambino e inoltre noi siamo qui a chiederci perché siamo stati presi in giro a questa maniera. Nella giornata di ieri, con il montare della protesta, l'amministrazione comunale ha installato un condizionatore in una delle nuove aule, ma la scuola è rimasta ugualmente inagibile poiché nei corridoi e nelle altre stanze la temperatura non ha consentito il regolare svolgimento delle elezioni ed è subito polemica politica. È stato proposto un emendamento da dei consiglieri, Maniero, il sottoscritto e altri, Vincenzo Rizzi e altri consiglieri, che proponevano chiaramente l'utilizzo di alcune somme che non erano state utilizzate per altri capitoli, che potevano essere spostate sulla ristrutturazione scolastica. L'importo era 350 mila euro, questo emendamento non è passato. E quindi chiaramente questi soldi che in parte potevano essere utilizzati per la ristrutturazione scolastica non sono potuti essere utilizzati a tal fine. Quindi le problematiche nelle scuole esistono e persisteranno per tutto l'anno scolastico.